La Regione Puglia ha voluto ricordare soprattutto ai giovani studenti, anche ai giovanissimi come oggi la festa dell'albero perché gli alberi sono indispensabili alla vita, sono indispensabili perché trasformano l'anidride carbonica che per noi è un veleno nell'ossigeno che per noi è la vita e per far questo abbiamo piantumato in moltissime scuole tantissimi alberi con l'aiuto dell'ARIF, la nostra agenzia per la riforestazione, ma soprattutto abbiamo colto l'occasione per spingere tutte le scuole pugliesi a ricordare alla generazione che per noi è la più importante di tutte, quella di coloro che stanno crescendo, che il bene che abbiamo ricevuto, il bene più grande che abbiamo ricevuto è il nostro ambiente, lo dobbiamo tutelare nella maniera migliore attraverso cura, rispetto e attenzione, programmazione. Speriamo che queste cose servano a migliorare la nostra capacità di presidiare le cose belle che i nostri nonni ci hanno lasciato.